ecco una americana si anche questa è un'americana ma oggi parliamo di questa un'americana è un traliccio d'alluminio a struttura reticolare spesso usata se l'avete sicuramente visto usata dicevo sui palchi in occasione di concerti live dove vengono usate come strutture portanti per luci casse audio e quant'altro ma in realtà questo video non è per chi già li conosce ma per tutta un'altra serie di categorie di professionisti che potrebbero trarne molto vantaggio da questo tipo di struttura mi sto riferendo in particolare a quelli che si occupano di visual merchandising in altre parole di chi fa vetrine e si occupa di mostre fiere che può sfruttare l'estrema versatilità leggerezza il segno grafico di queste strutture alluminio per risolvere problemi o creare nuove soluzioni tra l'altro sempre rinnovabili di volta in volta per sapere come utilizzare è necessario conoscere il mercato e quindi sapere che le americane non sono solo così qui vediamo infatti un pezzo da un metro e mezzo ma ci sono in tutte le misure a partire dai più corti fino alle trate più lunghe un po angombranti ma meno costose questa che vedete in particolare quadrata ma esiste anche triangolare meno pregiata a passo 30 ma c'è anche con un passo più stretto o più largo il diametro del tubo normalmente 50 mm e sono disponibili tutta una serie di accessori per costruire qualsiasi forma voi vogliate ad esempio vediamo in rapida associazione una serie di strutture ad angolo che si connettono in maniera estremamente rapida con dei connettori che si chiamano spigot dei coni che vengono infilati qua dentro e fermati con un perno in modo da essere molto veloci nel installare e disinstallare la struttura quindi una serie di angoli che vediamo in questo momento le travature triangolari o quadrate che siano oltre che dritte ci sono anche circolari con vari angoli di circonferenza per creare strutture rotonde appunto per essere appeso appoggiate a parete anche in diagonale insomma per per chi più ne ha e più ne metta come si dice in questi casi e poi ancora basi ganci e tutto quello che serve per un allestimento completo che va dalla piccola vetrina fino alla showroom del concessionario più prestigioso come già successo con alcuni nostri clienti per concludere la carrellata non mi rimane che mostrarvi qualche complemento quindi teli elastici che fanno da schermo o da divisorio e addirittura sgabelli tavole e sedie sempre in traliccio d'alluminio dal loro particolarissimo effetto tecnologico non troverete sul nostro sito tutti gli articoli uno per uno sarebbe lunghissimo ma vi invito invece a chiederci un preventivo specificando nella maniera migliore quale siano le vostre esigenze e le misure in questione il nostro sito è www.audiolucistore.it e vi consiglio tra l'altro di iscrivervi al canale youtube per ricevere i prossimi aggiornamenti su questa o altre categorie di prodotti a presto